Il coronavirus mette al tappeto l'Italia, quali sono i danni economici che stiamo subendo in questo momento? Il Nord Italia completamente fermo, ma completamente ferma è anche la macchina del PIL italiano perché la Lombardia rappresenta il 25% del PIL italiano completamente immobilizzata. Metro quasi vuota questa mattina, chiusura dei luoghi pubblici dove ci sono grandi possibilità di contagio, misure di contenimento schizzate alle stelle, grandissima allerta per il virus cinese che è arrivato in Italia, paese europeo con più contagiati. I mercati finanziari in questo momento come hanno risposto? Ragazzi, è un bagno di sangue nei mercati tradizionali, nei mercati old. In questo momento le borse stanno crollando a picco come non facevano da anni, ragazzi, da almeno un anno. Per quanto riguarda il mercato italiano, andiamo a guardare quello che sta succedendo, vediamo che cosa sta facendo Piazza Affari in tempo reale, quali sono gli strumenti finanziari che stanno subendo di più la crisi in questo momento, o il panico psicosi dovuta al virus del coronavirus cinese, andiamo a vedere quali sono i titoli in diretta su Piazza Affari e poi domandiamoci che cosa potrà succedere anche nell'immediato futuro, quali sono gli strumenti che dovete tenere sotto occhio, perché ci sono anche due casi che dobbiamo tenere sotto occhio di alcuni titoli italiani che possono essere anche molto ghiotti, ragazzi, e poi andiamo a fare le conclusioni di questo video dove vi dirò la mia opinione su questo argomento. Allora ragazzi, questo è il Fuzzimib Italia per quanto riguarda l'apertura di oggi. Guardate, il Super Gap, l'indice italiano scende di mille punti dalla chiusura di sabba, di venerdì scorso, scusate, mille punti di ribasso, ragazzi, soltanto per l'apertura e poi scende ulteriormente. In questo momento siamo a meno 5% per quanto riguarda il Fuzzimib Italia, che è l'indice con le 40 aziende italiane più capitalizzate, quindi è un collasso in questo momento della borsa, che tra l'altro, ragazzi, vi assicuro, viene mantenuta anche dalle grandi strutture, le grandi reti che ci sono in questo momento, aperte dalla Banca Centrale Europea, che in questo momento sta contenendo i ribassi. Il panico fa sempre così, non a caso quindi la borsa viene bloccata anche con ribassi consistenti per qualche minuto, ma poi arrivano le mani forti a tamponare questi ribassi. Quindi quello che vediamo in questo momento, ragazzi, è una fotografia del panico che si è sviluppato nel weekend in Italia dovuto ai primi casi di coronavirus e al contagio che è raddoppiato solo nella giornata di oggi. Andiamo anche a vedere un altro indicatore molto interessante, che in questo caso è lo spread italiano. Dalla mese di luglio 2019, più o meno luglio-agosto, quindi dopo la crisi di governo, è entrato nell'area corretta di oscillazione per quanto riguarda la sua oscillazione nei confronti del Bund tedesco, oggi, nella giornata di oggi, fa un piccolo balzo. Ovviamente, ragazzi, qui non c'è niente di anomalo. Questa è la giornata di cui vi parlo oggi, quindi facciamo un più 6, più 5,90 per quanto riguarda lo spread. Quindi quando lo spread sale, ragazzi, è negativo, non è positivo, quindi un po' di negatività, però è anche vero che lo spread oscilla intorno a determinati valori, non è preoccupante. Andiamo invece a fare un'altra cosa, una carrellata. Volevo farvi vedere di quello che sono i principali indici in questo momento quotati è un bagno di sangue, ragazzi, un bagno di sangue. Lo vediamo insieme perché l'influenza italiana ha colpito anche la Germania in questo momento, quindi i grandi paesi europei, Germania e Francia, e poi a livello mondiale non si ferma la discesa anche dei mercati americani. Che sia questa la causa scatenante di questo scoppio della bolla dei mercati finanziari old, ragazzi, questo non lo sa nessuno. Ancora è prematuro per dire una cosa del genere. Certamente una, due, tre giornate in queste condizioni metterebbero un'allerta non da poco. Considerate che ancora una volta le borse e comunque le banche centrali influenzano sui mercati, influiscono sui mercati in maniera positiva, quindi tamponano questi ribassi, ragazzi. Quindi quello che vediamo in questo momento sono dei ribassi accettabili per le banche centrali, perché loro in ogni caso intervengono se vedono qualcosa eccessiva. Allora andiamo a guardare, intanto vedete Fuzzimib Italia, meno 5,14, l'all share che poi è quello più allargato, delle aziende più allargate, meno 5,21. C'è un grande positivo in questo caso, che è l'SP500, VIX. Cosa è il VIX, ragazzi? È l'indice della volatilità. Anche questo ve lo indica. La situazione attuale a livello mondiale, cosa sta subendo? più 35%, l'indice della volatilità significa che il mercato è diventato estremamente più volatile, ma è anche soprannominato l'indice della paura, ragazzi, il VIX, ok? Più 35%, ci sono altri mercati da guardare. A Germania, meno 4, la Francia, CAC 40, meno 4, ancora una volta, meno 3,80, poi c'è anche la Svizzera, sono tutti colpiti, ragazzi, vedete? Non se ne salva uno. Abbiamo una leggera diminuzione del Bovespa, che è il, diciamo, sono i mercati ratini, quindi il, in questo caso il Brasile, e poi, vedete, anche quelli cinesi che avevano subito comunque molto nelle scorse settimane. Come sta andando l'SP500? Anche l'SP500, in questo caso, questo è l'indice che ancora non è aperto, ma il Future, andiamolo a guardare, questo qui, Future, l'SP500, ragazzi, meno 3, meno 2,70, meno 2,70 in apertura, quindi è una gap down pesante anche per il Future, l'SP500, probabilmente magari poi riapre e recupera, ragazzi, non sappiamo se lo farà, però in ogni caso, questo per farvi capire l'attuale situazione, a che livello è di pericolosità, anche per i mercati old. Andiamo poi a vedere però una fotografia interessante di quelle che sono gli strumenti più colpiti in questo momento dal punto di vista economico, perché? Perché ci indicano anche quella che è la situazione, quello che potrà accadere nell'arco dei prossimi mesi, ragazzi, perché le borse scontano una situazione che poi si verifica nella realtà dopo 3-6 mesi, quindi quello che stiamo vedendo in questo momento è un'anticipazione di quello che avremo nell'economia reale, sicuramente una fase recessiva provocata da questa panico da epidemia, che potremmo tirare avanti anche per un po' di tempo. Allora, intanto volevo farvi vedere alcuni strumenti, in particolar modo quelli relativi al petrolio e all'oro. Ragazzi, allora il petrolio profondo rosso. Perché profondo rosso per il greggio, ragazzi? Perché il greggio in questo momento subisce il rallentamento presunto, ma praticamente quasi certo ormai, ragazzi, perché la Cina è bloccata ormai da mesi, quindi un rallentamento dell'economia globale, della produzione, quindi il greggio, il petrolio va giù, ragazzi, va giù, lo potete vedere già diciamo in questa fascia qui, dallo scoppio della crisi che era dicembre del 2019, vediamo se lo riusciamo a vedere appunto sul time frame daily, guardate, dal scoppio della crisi, in dicembre del 2019, quando la crisi diciamo si è acuita, va giù ragazzi, pesantemente, è sceso tantissimo, da 63 dollari il greggio, ragazzi, è arrivato alla giornata di oggi con un 51 dollari, quindi parliamo di circa 12 dollari di meno, ragazzi, pari al 20%, nel caso del petrolio, comunque sono sostanziali differenze, andiamo a vedere invece un'altra cosa, l'oro, l'oro al contrario sta facendo i numeri, perché l'oro è bene rifugio, quando c'è paura, l'oro schizza alle stelle, massimi storici da 7 anni, ragazzi, per quanto riguarda il gold, massimi storici incredibili, un bellissimo trend, ancora una volta iniziato, vedete qui, con il breakout dalla fine mese di dicembre, quindi proprio in concomitanza con quello che era lo scoppio della crisi più acuita, quando la crisi si è acuita dal punto di vista del virus, è iniziato il trend del gold, che è salito di circa il 20%, un po' di meno del 20%, anche il gold. Andiamo invece al nostro mercato, e andiamo a vedere quello che sta succedendo, e capiamo un po' di cose, quali sono gli strumenti italiani, le azioni, le stocks italiane, che stanno andando malissimo in questo momento, e quale stanno andando benissimo. Allora, da prima, ad occhio e croce, ragazzi, quello che possiamo pensare, in questo caso, per quanto riguarda l'Italia, è che stiano andando mali tutte quelle aziende, tutti quelle stocks, che sono legate al prezzo del petrolio, e legate a cosa, ragazzi, ai trasporti, quindi al movimento della circolazione delle persone, quindi, se tutto è bloccato, in questo caso, vanno male, quel tipo di aziende. quindi andiamo a vedere in sostanza, ragazzi, i vincitori e i perdenti, qui nell'area Market Movers, e vediamo che tra i perdenti, ragazzi, spiccano Autogrill, con un meno 12,60, perché, ragazzi, Autogrill, e le altre sono comunque, questa qui, ragazzi, quella che vedete, sono aziende che già erano in forte crisi, quindi non le prendo in considerazione, perché comunque questa esportava, diciamo, un'azienda di esportazione agricola all'estero, ancora peggio, ragazzi, i prodotti agricoli italiani subiranno, insomma, verso l'estero, ovviamente. Allora, Autogrill SPA, perché, ragazzi, perché, meno viaggiatori, meno spese negli Autogrill, e nelle autostate italiane, c'è il blocco, in questo caso, anche dei trasporti, quindi Autogrill subisce, una perdita molto forte. Mi interessava, però, farvi vedere, anche altri titoli, come per esempio, Eni ed Enel, ragazzi, perché anche Enel, sta andando giù, a causa del problema, del petrolio, ma anche Eni, se andiamo a vederla, ragazzi, anche Eni, sta scendendo, vedete, del 5%. Allora, in questo caso, Eni scende già da un po', perché vediamo che, dal maggio del 2018, c'è un trend, leggermente ribassista, per il titolo Eni, se allarghiamo ancora di più, andiamo a vedere, magari, la massima estensione, vediamo che, dal ottobre del 2007, Eni non raggiunge questi massimi, quindi, insomma, in sostanza, dal 2009, dallo scoppio della crisi, post-Liman, abbiamo un'oscillazione totalmente negativa, ma in questi momenti è arrivata, guardate dove, ragazzi, al minimo, del post-Liman Brothers, ragazzi, quindi, dopo lo scoppio della crisi, Eni è ai minimi storici, dopo il 2009, ragazzi, una cosa incredibile, considerando che paga anche un dividendo estremamente alto, potrebbe essere occasione di acquisto, se valutata in maniera strategica, se con un'analisi fondamentale, impostata in maniera corretta, Eni potrebbe essere un'azienda da tenere sott'occhio, anche Enel, da un punto di vista italiano, potrebbe esserlo, ragazzi, perché? Perché Enel aveva un trend molto rialzista, da due anni circa, ad agosto del 2018, guardate, quindi questo ribasso potrebbe essere poi magari sfruttato in seguito, se si ferma questa crisi attuale del nostro mercato, del panico dovuto al coronavirus, potrebbe essere sfruttato per avere un investimento che sia magari nel tempo profittevole, quindi con un investimento di natura di lungo periodo, quindi ragazzi, in questo momento, vi ho detto quelle che sono le aziende italiane che soffrono di più, anche due occasioni, ma poi volevo anche farvi vedere un'altra cosa, simpaticissima, però ragazzi, sdrammatizziamo un po' in questa situazione, perché poi vi dirò anche le conclusioni, le mie personali a questa idea del coronavirus, allora, Coinvest ragazzi, più 12%, cosa fa questa Coinvest? In sostanza è un market maker di oro fisico, quindi comprono e vendono oro fisico ragazzi, quindi di conseguenza si è alzata, diciamo, è schizzato su alle stelle. C'è anche un altro titolo che volevo farvi vedere, perché fa capire un po' la psicosi del fenomeno attuale, il Servizio Italia Spa, la Serit, Serit ragazzi sapete cosa fa? Sterilizza materiale chirurgico, quello degli ospedali, quindi è una, in sostanza è una specie di lavanderia, sterilizzano quelli che sono i prodotti ospedalieri, e in questo momento ragazzi, più 3, perché la psicosi va a toccare anche questi ambiti, insomma, poi ci sono va bene altri tipi di aziende che vanno su e giù. Bene ragazzi, allora siamo alle conclusioni finali di questo video, danni economici ingenti dovuti al coronavirus, si cremo dei danni economici ingenti causati da questo virus, ma è più il virus ragazzi a causare i danni economici o la psicosi del virus. E questa è la domanda con cui vi lascio in questo video, volevo anche la vostra opinione al riguardo, scrivetemi quello che pensate nei commenti ragazzi, e vi dico anche la mia, perché il virus coronavirus in questo momento sta mettendo così tanta ansia? Siamo spesso portati a dire quasi tutti che non è, è tutta psicosi, è tutta indotta, eccetera eccetera. Ok, giusto, questo tipo di considerazioni, perché i casi accertati in Italia sono talmente pochi che sono irrisori in questo momento, e nonostante tutto abbiamo visto il panico che si sta generando anche sui mercati, una cosa abbastanza visibile ragazzi, immaginiamo sia così anche nelle grandi città italiane al nord Italia, ma poi chiediamoci un'altra cosa, è del tutto vero dire che è solo psicosi oppure c'è un fondamento sulla paura che sta generando il coronavirus? Se in realtà ragazzi, vi dico la mia, una psicosi c'è, ed è indubbia questa cosa, ma la paura del coronavirus è giustificata in base ai tassi di mortalità, purtroppo mi vuole parlare di questo argomento nel mio canale, però è così, quindi il coronavirus è molto più letale di una influenza normale. Questa è la differenza rispetto alla normale influenza, che ovviamente ragazzi fanno molti più morti ogni anno un'influenza classica rispetto a quello che sta facendo il coronavirus, ma la paura non è qui, la paura sta nel fatto che il coronavirus è letale, molto di più ragazzi dell'influenza, ma tantissimo di più, è questa la paura attuale, quindi psicosi sì, però anche una leggera paura giustificata di questo tipo di epidemia. C'è anche poi un'idea di fondo, cioè il fatto che non si pensa che non ci sia cura a questa cosa, quindi in questo momento non c'è il vaccino, nessuno sa che pesci prendere, ma anche il paziente è zero in Italia, non si sa da dove arriva, arriva dai cinesi o non arriva dai cinesi, tante le speculazioni come sempre capita ragazzi, purtroppo anche sulla pelle nostra, sulla pelle di tante persone, però in linea di massima abbiamo visto quello che sta accadendo sui mercati, è da monitorare la situazione, innegabilmente inutile nasconderci dietro un dito, perché i mercati old stanno soffrendo, è iniziata in questo momento una fase di ribasso che continuerà nei prossimi giorni, le banche centrali stanno tamponando, cosa succederà nei prossimi giorni ragazzi? Nord Italia bloccato e non sono psicosi. Ciao a tutti, noi riprenderemo la normale programmazione nel prossimo video, quindi in settimana con l'analisi dei mercati, bitcoin e le altcoin, in generale le cripto stanno subendo poco questo momento, ma poi ne parleremo nel prossimo video per oggi. Ciao a tutti! Grazie! Grazie!